Provo anche io a scoprire la mia carriera da giocatore, vai vediamo un po' Allora, dalle giovanili dell'Ajax passiamo al City per 40 milioni a 20 anni Ottima questa cosa Partiamo dalle giovanili dell'Ajax perché nessuno in Italia capisce il nostro talento Dopo il City passiamo, solo un anno dopo, a 5 milioni al Betis Abbiamo fatto una brutta stagione, mi sa Dopo due stagioni al Betis ci siamo un po' riscattati Infatti andiamo all'Atletico Bilbao per 70 milioni Qualcosa di clamoroso Questa ha 23 anni, adesso altri due anni qua e vediamo il nostro trasferimento a 25 anni A 25 anni nel nostro Prime ci trasferiamo fino a 30 anni al PSV per 100 milioni Vabbè, torniamo in Olanda, tradiamo un po' l'Ajax E poi dai 30 anni fino al ritiro passiamo al Dortmund per 15 milioni Una carriera praticamente passata al di fuori dell'Italia Io l'ho sempre detto, in Italia non capisco il nostro talento Quindi ce ne dobbiamo andare all'estero